buongiorno oggi ci sono 16 gradi andremo a cortina darwin loris andrà con la mia francesco che deve prendersi un trium poi fate una foto con il trium a me è un boss andremo col trium e il beta di francesco la giornata è abbastanza buona ci sono 16 gradi oh Grazie a tutti Grazie a tutti Non diciamo dove però no? Vediamo se lo riconoscono Grazie a tutti 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 Tarvin guarda quanti gradi che Loris non ce la fa 9 e 5 gradi 9 gradi dai Grazie a tutti 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 Buon appetito Abbiamo finito Grazie a tutti 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 Grazie a tutti